L'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale ha allestito, in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, un progetto di presentazione di pubblicazioni di pregio. Si tratta di una bacheca che espone le riproduzioni di volumi antichi e rari curate dal Consiglio regionale, i cui originali sono conservati nella biblioteca stessa. Tra le opere esposte, la geografia di Francesco Berlingheri e Stirpium Ikones del Peiroleri.